Musica Buongiorno a tutti, sono Gabriele Adelfante, l'autrice delle Chiavi delle Fate. Eccole qua. La prima edizione è datata a 1995, è la seconda, completamente rinnovata con l'aggiunta di un libricino, è stata edita esattamente vent'anni dopo. Che cosa faremo durante questa festa? Faremo delle micro dimostrazioni sull'uso delle carte e scopriremo insieme quanto il semplice gesto di estrarne una potrà condurre ad un percorso di consapevolezza, lieve, giocoso, ma contemporaneamente profondo. Voi intanto preparate delle domande e le fate, vi aiuteranno a trovare le risposte. Infatti sono gioiose e li vieni e quindi sorrideremo insieme. Vi aspetto, grazie, ciao! Grazie! Grazie! Grazie!